Paternese Grazie a tutti. Il numero 12 e il numero 4 sono eliminati per il campo del Morale. Il numero 12 e il numero 4 devono fermarsi. Il numero 12 è vero, devono fermarsi. Abbiamo visto l'invenzione di due suore, tra i talanti motivano velocissimo il pianusco e l'ambiente. Il numero 12 è vero, tra i talanti motivi. Tra queste e le spalle sono il canale del mio nome. Il numero 12 è vero. 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 e video su abbi sbagliano in questo momento numero 5 su abbi e ah 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 rimane per la terza piazza tra il lusso e il cardano schetti e il cardano ci sono un po' vicino e la persona del lusso è avanti un grande stavo il cardenaggio il cardenaggio cambia in terza l'ultimo che viene ragione in questo momento da cardano schetti il cardenaggio il cardenaggio il cardenaggio il cardenaggio il cardenaggio tranquilla per altri in primo giro in primo giro con la prima scuola viene eliminata la scuola numero 12 per cambio regolare cambio regolare per la mia città con la prima scuola con la prima scuola la scuola arriva a ambi in seconda posizione ci mettiamo in terza posizione con la scuola del lusso e la scuola del lusso con la scuola del lusso